Sì, ciao, ragazzi. Sì, ciao. Io abbiamo questo gioco, che ho scoperto, ok? Ho scoperto, perché se si scrive in italiano, il gioco se lo dice in lettera, e non è più in inglese. Quindi si può scrivere pure in italiano, perché lo sapete bene in inglese. Aspettiamo che se non è più in inglese, perché... No, però, va di zero o no? Possiamo mettere mele ricobre, cioè, da tene. Perché non mi casco. A posto di cioccolato, io non compro l'Obit, perché non mi piace tanto il cioccolato. Vediamo chi vince. Vediamo. Vediamo. Mentre sto facendo questo video, sto mangiando. Ecco. Perfetto. Ehm... 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 Delle biettine che non ne ho ancora mangiate. Ehm... 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 La B bellezza da. Ehm... 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 La B bandona. Ehm... Comunque, nel nostro canale dove mettiamo dei pezzi è lontano di 240 iscritti, grazie a tutti voi Su questo canale ne abbiamo 24 su 25 iscritti almeno, non lo so Vi dispiace Però vabbè Oggi Vi metto in pausa se mi sapevo Invece Molto A me vittor A me vittor A me vittor A me vittor Certo A me vittor Vabbè, a me vittor Vabbè, vi metto pausa e poi torniamo. Vabbè, sentite ragazzi, voglio cambiare server. Non fateci caso che ho giocato in bagni pubblici perché volevo vedere come erano. Non ci ho mai giocato, non fateci caso. Vedi, vedete, costa 30 robots. E io non ce l'ho, ho da merda. Ah, andiamo in questo server, ci sono voi. Eccole io. Cioè, se voi scrivete martidi, me lo dice in inglese perché, ecco, io non scrivo in inglese per bene, me lo dico. Cioè, bevi messo i mercoledì, dicono i filmi mercoledì. Allora, saprei come mi piace a mercoledì. Andiamo. A presto. Scusi. Scusi. Scusi, è tutto quello? Scusi, scusi. un po' di siccato che non mi devo fare Percivalo il nostro corso gratuito. la mano almeno 4 punti io anche la mano penso no, è piena c'è qualcuno che muore non c'è acqua dai c'è c'è una linea 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 Giug .. ...... .... Giuggeri Il ... EIN ed 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 e e e e a e Noi non hanno qualsiasi animale popolare che mi spogliare, sta racciccando. Lasciamoci i nodi. Non lo so. In realtà, un altro giorno, guarda. Ci vediamo il pomeriggio in un altro video. Ciao a tutti!